Un entusiasmo contagioso, segno di una fede gioiosa che si testimonia soprattutto fra quanti la società tende a scartare. Le ultime ore in Ecuador Papa Francesco le ha vissute con la chiesa locale, anzitutto con le missionarie della Carità di Tumbaco, dove le redi spirituali di Madre Teresa gestiscono una casa di riposo per anziani. Poi c'è stato l'abbraccio grato e festante con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi presso il Santuario Nazionale Mariano e il Chinze. Dopo una breve preghiera alla Virgen e aver ascoltato due testimonianze, il Pontefice ha abbandonato il discorso ufficiale per offrire alcune riflessioni spontanee. I tre giorni trascorsi in Ecuador infatti hanno permesso al successore di Pietro di sperimentare la fede cristallina delle persone e la loro profonda devozione a Maria, che è sempre stata discepola. Proprio la Vergine dovrebbe essere, per quanti hanno scelto di seguire Gesù, un esempio costante a cui riferirsi per la profonda coscienza di gratuità e per la perseveranza. Tutta la vita di un sacerdote, di una religiosa, di un vescovo, ha detto il Papa, dovrebbe procedere sulla strada della gratuità e tutti ogni sera dovrebbero ringraziare per quanto hanno ricevuto, gratis e senza meriti particolari. Il Pontefice, in un clima informale, scandito da applausi e qualche battuta, ha ricordato che la prima missione è servire con pazienza e allegria e che non bisogna mai cedere all'Alzheimer spirituale ma fare sempre memoria della propria storia. L'Ecuador ha lasciato andare il Pontefice alla seconda tappa del viaggio apostolico, la Bolivia, trattenendo però i suggerimenti, i sorrisi, le strette di mano, gli abbracci e la certezza che con Dio tutto è possibile.